Partendo dal presupposto che non ho mai commentato una partita in vita mia, laddove questa fosse stata una partita io la commenterei. Vabbè, comunque, qui si sono visti 100 passamenti di niente, ovvero una squadra che è venuta qui annullando le facce. Non ho mai visto una squadra difendersi così. Hanno perso tempo per tutta la partita, hanno fatto finire qualsiasi partita e poi aggiungiamo l'alasso. Poteva fare leggermente di più rispetto a quello che fa. Diamo magari qualche azioncina da gol in più, ci sarebbe stata male. E quindi, vabbè, comunque sia, ci è capitato un girone dell'Europa League che neanche il Champions League si vedeva. Tutto sommato, tutti i problemi che abbiamo, va contento di essere secondo. Meglio essere secondo qui che essere d'arte a squadra. E quindi, dall'Olimpico è tutto. Un salutone Daniele. Ciao! Ciao!